per scrivere politiche dell'accoglienza, dell'asilo, dell'immigrazione, dell'inclusione sociale che siano veramente degne di questo nome efficaci, lungimiranti, rispettose dei diritti fondamentali delle persone e accanto a questo è naturalmente la riforma della cittadinanza chi come me si è tanto occupato di questi temi nel lavoro professionale anche prima di questo ruolo da segretaria ha sempre l'attenzione e la cautela di tenere anche un po' distinti queste due riforme, queste due grandi riforme però qui abbiamo voluto comunque anche in questo ultimo panel raccogliere voci importanti a volte anche di frustrazione rispetto a quelle promesse mancate dalla politica, dalle istituzioni anche sì ahimè dal nostro partito ma siamo qui proprio per prendere lo spunto da questa critica da questa autocritica e fare un passo avanti insieme su questo voglio da subito assicurarvi tutta la nostra volontà politica tutto il nostro coraggio perché serve quel coraggio per ricucire quelle ferite e per scrivere queste politiche e anche per riuscire insieme a difendere i diritti fondamentali delle persone sotto attacco perché se ci pensate c'è un governo ormai da 15 mesi che dall'inizio non ha avuto scrupolo di applicare la più bieca demagogia sul terreno delle politiche migratorie, delle politiche d'asilo l'abbiamo visto in ogni scelta, l'abbiamo visto con la retorica di questi anni che ha sempre voluto indicare nel diverso, nella persona migrante un nemico, un nemico su cui scaricare tutte le rabbie, le frustrazioni, le colpe sociali ecco questa è la destra che abbiamo conosciuto e che oggi governa e traduce questa retorica con politiche fortemente ideologiche con scelte sbagliate, scellerate, pensate a una delle prime di queste quel decreto che noi ci rifiutiamo di chiamare cutro perché serve più rispetto per i morti di quell'ennesima strage nel Mediterraneo quel decreto che per semplicità chiameremo decreto Meloni è un decreto che ha due obiettivi il primo è quello di rendere più difficile i salvataggi in mare e avremo bisogno di tutt'altro perché purtroppo continuiamo a vedere quello che accade nel Mediterraneo e non dimentichiamo che ci sono altre frontiere su cui anche quando si spengono i riflettori continua ad essere sofferenza, continua ad esserci negazione di diritti fondamentali pensate a quella che per molto tempo è stata chiamata rotta balcanica con le ferite aperte, dei diritti calpestati a velica cladusa in luoghi dove davvero è mancata l'Europa è mancata l'Europa, c'è qui per Francesco che insieme anche a nostri deputati o eurodeputati e senatori conoscono bene quelle situazioni anche per essere andati in alcuni casi a presidiarle con il proprio corpo dicevo, quello che abbiamo visto in quel decreto è ciò che rende ancora più difficile il lavoro prezioso, che noi voglio dirlo con chiarezza continueremo a difendere delle organizzazioni non governative basta con la criminalizzazione della solidarietà perché la solidarietà non è un reato sarebbe un dovere delle istituzioni democratiche di questo paese e dell'Europa di questo paese e dell'Europa dicevo, a parte la crudeltà di volere allungare come stanno facendo anche nelle decisioni operative quelle di allungare i viaggi a chi viene salvato, strappato dal mare dopo un naufragio e viene costretto ad arrivare fino ai porti più lontani di solito guarda caso nelle regioni che non governano loro perché abbiamo visto anche questo, una strumentalizzazione piena e becera delle vite delle persone più fragili e dall'altra parte fa un'altra cosa questo decreto smantella l'accoglienza diffusa non è la prima volta che la destra ci prova era l'intenzione dichiarata dei decreti sicurezza che ci ricordiamo bene decreti sicurezza che hanno prodotto soltanto insicurezza verso le persone abbandonate perché escluse dall'accoglienza e quindi lasciate vulnerabili per strada esposte alla ricattabilità, al lavoro nero, alla criminalità organizzata e guardate qui passa davvero una questione di civiltà chiarire che quei decreti e quelle scelte hanno prodotto più insicurezza per quelle persone e in generale per le comunità che non sono in questo caso messe in condizioni di accogliere di includere per davvero, con benefici per tutti queste sono alcune delle scelte poi ne sono arrivate tante altre so che vi siete confrontati anche su le ultime scelte prese alcune delle quali veramente quelle di abbandonare anche i minori ad essere accolti in strutture per adulti con una grave violazione di quello che è il principio del superiore interesse del minore insomma questo è il vero volto della destra che oggi governa e su questo bisogna essere molto chiari perché è una destra anche molto ipocrita lo diciamo sempre è una destra che se la prende sempre con i migranti irregolari e mai con chi li impiega irregolarmente nei campi e nelle aziende di questo paese è facile così è molto ipocrita però no perché a volte viene da pensare perché abbiano scritto queste politiche così arriviamo a quali erano alcuni degli obiettivi di questa due giorni realizzati grazie al vostro contributo è chiaro il mandato che esce da questa due giorni e il mandato che ci dà questo appuntamento è quello finalmente di mettere mano ad una riforma complessiva dell'immigrazione superando la bossi fini che è una norma criminogena che crea irregolarità questo vuol dire che crea scientemente irregolarità per poi vedere sempre i soliti quelli che non ha scritto due nomi due garanzie e devo dire dal 2001 se non erro perché è dal 2001 che è in vigore sono passati 23 anni ecco se l'approccio securitario fosse efficace forse dopo 23 anni non saremmo qui a parlarne ma è un approccio che vuole alimentare una situazione di insicurezza e di irregolarità per vedere sempre i soliti candidarsi poi a governarla a colpi di altra sicurezza allora l'approccio è completamente fallimentare l'abbiamo visto bene anche in quest'anno l'abbiamo vista quell'ipocrisia anche nel momento in cui ogni tanto vi ricordate usano un argomento beh aiutiamoli a casa loro poi sono gli stessi però che negano i finanziamenti alla cooperazione internazionale che creano scomodando un grande italiano un piano Mattei che è una scatola vuota che è solo una centralizzazione di potere non c'è mezza idea, mezzo progetto, mezza risorsa per capire come costruiamo insieme all'Unione Europea che come sapete è la maggiore donatrice di aiuti allo sviluppo al mondo è una strategia di rapporto paritario e sono gli stessi, quelli della destra che piegano l'essenza stessa della cooperazione allo sviluppo a dei fini che sono completamente estranei alla cooperazione quello dell'ossessione securitaria del blocco, delle frontiere della costruzione di nuovi muri anche in Africa con quello che comporta un aumento, non certo una riduzione delle diseguaglianze che invece dovremmo in un'ottica di rapporto paritario capire come affrontare insieme il nostro faro non può che continuare ad essere quello dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile molto diversa da quelli che erano stati prima i Millennium Goal che sembravano, se ci pensate, quasi un'agenda dello sviluppo dettata dai paesi già ricchi ai paesi più poveri ecco, l'approccio universale invece dell'agenda 2030 è un approccio di parità e quindi anche di reciproco supporto per raggiungere quei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile niente di tutto ciò fa parte delle politiche che sta partendo avanti il governo Meloni ma c'è anche un altro aspetto di ipocrisia che è da sottolineare cioè l'abilità con cui piegano costantemente la testa ai nazionalisti loro alleati in Europa questa cosa mi ha impressionato, guardate quando un governo italiano serio dovrebbe fare una grande battaglia per far valere la solidarietà europea che non è un concetto da cercare lontano sta scritto negli articoli 78 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea c'è scritto solidarietà europea e c'è scritto equa condivisione delle responsabilità sull'accoglienza questo vuol dire che le normative europee attuali e quelle che ci portiamo dietro purtroppo da 20 anni violano da questo punto di vista quei principi contenuti nei trattati perché? beh perché guardiamo soltanto all'ultimo anno nel 2022 dove sappiamo che 6 paesi su 27 hanno affrontato da soli più del 75% delle richieste d'asilo presentate in tutta l'Unione Europea è forse questa solidarietà è forse questa equa condivisione delle responsabilità tra tutti i paesi membri come richiesto dai trattati sarebbe il caso di farli rileggere ad alcuni di questi paesi ma di certo mai mi sarei aspettata di vedere una presidente del Consiglio italiana volare fino in Polonia quando c'era ancora il suo alleato Moravieschi a dire avete ragione voi beh ma allora da questo punto di vista lo stavamo facendo meglio noi l'interesse nazionale battendoci come abbiamo fatto in questi anni per superare l'ipocrisia del regolamento di Dublino che blocca centinaia di migliaia di persone nel primo paese dove mettono piede quella battaglia va proseguita e arrivo in modo disordinato ma raccogliendo alcuni degli spunti di questi due giorni a dirvi alcune piste di lavoro secondo me importanti anzitutto superare la legge Bossi Fini da questi due giorni sono venute indicazioni utili non vuol dire che il lavoro sia finito ma abbiamo già del lavoro legislativo su cui ragionare ho colto anche gli spunti che ci dava prima Matteo Mauri ecco credo che sia importante mettere a terra in fretta questo lavoro perché il mandato chiaro che viene da oggi è che noi dobbiamo presentare questa riforma è una riforma che superi quell'approccio securitario che ha fatto mancare completamente le vie legali e sicure per l'ingresso in questo paese tra le tante ipocrisie forse ecco questa è una di quelle che nel dibattito ha fatto più male diciamoci la verità con quella legge Bossi Fini l'Italia sta dicendo che l'unico modo per venire legalmente in questo paese è che un datore di lavoro ti chiami nel tuo paese senza conoscerti e ti offra un impiego ma quando mai? ma quando mai? è una legge fatta per non riuscire a dare la risposta ad un paese che non accetta di essere ormai dagli anni 80 a un paese di immigrazione è un non governo dell'immigrazione quello che ha sempre portato avanti la destra e che mira invece a schiacciare i diritti delle persone quindi è certo che nella riforma che scriviamo della Bossi Fini ci deve essere un modo sensato per poter venire legalmente anche per chi non sta cercando la protezione internazionale quello è un altro capitolo qui lo sappiamo bene ma per chi cerca una opportunità per costruirsi un futuro dignitoso per lavorare per contribuire al benessere di questo paese come già tante persone tra mille difficoltà hanno fatto e sono riuscite a fare questo vuol dire che in quella riforma bisogna che ci sia un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro regolare e regolato nei tempi questo è l'unico modo per riuscire a costruire una riforma strutturale e riuscire a creare quei canali di ingresso legali che mancano poi naturalmente lavorando anche sulle politiche dei flussi senz'altro le cose però stanno insieme e non possono avere questo tappo che la Bossi Fini ha sempre costituito l'altra grande questione è quella dell'accoglienza diffusa riuscire a rivendicare una grande eccellenza italiana che è stata in tanti casi il modello Sprar poi ha cambiato nome tante volte lo sappiamo ma l'idea che per fare inclusione vera bisogna riuscire a costruire le condizioni non dell'imposizione dall'alto di grandi concentrazioni di persone a centinaia dove spariscono i diritti e dove spesso abbiamo visto infilarsi l'interesse economico e a volte anche il malaffare ma riuscire a costruire le basi di un'accoglienza diffusa in cui ogni territorio faccia la propria parte e guardate che anche qui così come chiediamo una condivisione obbligatoria di responsabilità a livello europeo bisognerebbe ragionarci anche dal punto di vista nazionale perché altrimenti sarà tutto lasciato solo e esclusivamente alla buona volontà di tanti nostri amministratori che fanno la loro parte ogni giorno ma troppi altri volteranno la faccia come se non fosse una questione che li riguarda e non è così che saremo credibili quando chiediamo agli altri paesi europei di condividere le responsabilità sull'accoglienza se in Italia non siamo in grado di fare la stessa cosa dicevo sull'accoglienza diffusa quindi in piccole soluzioni abitative con la trasparenza sulla rendicontazione dei fondi pubblici utilizzati collegare regolari d'appalto anziché no quelle procedure ad affidamento diretto e riuscire anche a garantire quei servizi di inclusione che sono fondamentali per l'inserimento sociale per l'inserimento lavorativo per l'insegnamento della lingua ogni volta che si è agito per togliere risorse ecco si è agito contro l'interesse nazionale della comunità lo dico per chi è affezionato a usare queste categorie no ecco si è agito contro l'idea che si potesse vivere meglio insieme nelle comunità locali con un pieno coinvolgimento dei sindaci con un pieno coinvolgimento quindi appunto di quelle comunità e dei servizi che possono offrire allora su questo noi dobbiamo continuare ad insistere perché purtroppo abbiamo visto quali sono gli esiti anche in quegli anni in cui è stato in vigore decreti sicurezza lasciato per strada decine e decine di migliaia di persone lasciandole veramente in una condizione di estrema vulnerabilità e fragilità questo mi dà l'occasione di dire che questo governo ha cercato di scaricare le sue responsabilità sull'accoglienza tutte sulle amministrazioni locali ed è una vergogna perché abbiamo più volte chiesto al ministro dell'interno di riunire gli amministratori locali e le amministratrici locali e riuscire insieme a dare al paese il piano per l'accoglienza diffusa che manca e che è indispensabile e che ogni tanto chiede qualche voce anche dalle loro parti poi fanno finta di non sentirla ecco noi dobbiamo insistere su questo piano e sul grande piano di integrazione e di inclusione di cui abbiamo parlato in questi giorni che vuol dire però risorse competenze ascoltare i saperi diffusi del terzo settore del mondo dell'accoglienza altrimenti non ci sarà occasione di costruire un'accoglienza diffusa avete fatto bene a sottolineare anche un altro aspetto noi questa cosa abbiamo cominciato a vederla davanti ad un'emergenza vi ricorderete dopo gli ingressi arrivati dopo l'aggressione criminale di Putin ai danni dell'Ucraina sono arrivate moltissime persone negli altri paesi europei e moltissime in Italia e lì c'è stato il primo inizio di un ragionamento per un'accoglienza più diffusa che addirittura adottasse alcuni modelli sicuramente qualcuno li ha menzionati che guardassero anche all'accoglienza nelle case nelle famiglie c'è stato che ha provato le famiglie accoglienti tante realtà molto importanti da questo punto di vista ecco io credo che anche questo sia un pezzo di riflessione lo dico perché mi viene un dubbio che spero sia sbagliato ma guardate come mai quando c'è stata guardate quando c'è stata quella ricordo 4 milioni di persone che sono arrivate in Polonia dall'Ucraina in fuga da quel terribile conflitto scagliato dalla Russia addosso a quel popolo ecco io mi ricordo una cosa mi ricordo che per la prima volta si è sbloccata una direttiva che noi addetti ai lavori chiedevamo da tanto che fosse sbloccata quella sulla protezione temporanea e si è potuto grazie a questo far sì che le persone in fuga dall'Ucraina riuscissero a trovare accoglienza attraversando legalmente le frontiere degli altri paesi ed essendo accolte non trattenute forzosamente nel primo paese di ingresso in Europa ecco però il dubbio che mi è sempre venuto da lì è ma perché anziché fare questa battaglia voglio dire lì chi ha insistito sono proprio quei paesi che sono stati più riluttanti a una condivisione delle responsabilità sull'accoglienza gli alleati di Giorgia Meloni e perché da questo punto di vista questo governo non ha chiesto che si facesse così anche per chi arriva dalla rotta del Mediterraneo centrale perché se la questione è il colore della pelle è razzismo e non si spiega e non si può accettare cioè non ci sono rifugiati di serie A e rifugiati di serie B dovremmo costruire un sistema di accoglienza migliore per tutte e per tutti e anzi valorizzare quelle buone pratiche che i territori hanno messo in campo proprio per quell'accoglienza e mantenerle in vita grazie anche al ruolo della protezione civile ricorderete mantenerle in vita anche a fronte di una situazione che ha visto in quest'anno un record di arrivi nonostante la propaganda della destra mi pare smontata dalla realtà dei fatti ora su questo dico pure i comuni non possono essere lasciati soli e noi saremo al loro fianco non hanno da soli le risorse per fare un'accoglienza dignitosa bisogna che ci siano i fondi che servono abbiamo fatto tanti anni una battaglia perché l'Unione Europea potesse anche attivare dei fondi direttamente verso le amministrazioni locali perché quando il filtro è fatto da governi che non ne vogliono sapere abbiamo incontrato in questi anni tante realtà che invece anche in altri paesi europei volevano essere messe in condizioni di fare bei progetti di accoglienza ma non lo potevano fare quindi anche su questo visto che ci avviciniamo a un appuntamento elettorale importante per l'Europa non dimentichiamo questo versante di questa grande sfida sulla questione della riforma di Dublino sapete che mi potrei dilungare quindi non lo farò voglio dire soltanto questo il negoziato attorno al patto l'avete detto è stato difficilissimo ringrazio chi se ne è occupato molto deludente nell'esito con pieno di criticità e di problemi seri adesso qual è la questione noi abbiamo sempre detto una cosa chiara serve far valere i trattati che prevedono solidarietà obbligatoria perché? perché la solidarietà facoltativa non ha mai funzionato nella storia dell'Unione Europea e questo è già un primo passo di questo tema e poi anche l'idea che un paese possa rifiutarsi possa rifiutarsi di far parte dei ricollocamenti dell'accoglienza pagando una somma di denaro come se si potesse dare prezzo al diritto d'asilo che è un diritto fondamentale dell'Unione ed è un diritto fondamentale anche secondo la nostra Costituzione un altro dei problemi è che c'è un eccesso di procedure accelerate alla frontiera che chiaramente graveranno di più su quei paesi che stanno alla frontiera sembra una banalità forse il governo Meloni non se ne è accorto però questo rischia di accadere oltre al fatto che sappiamo che rischiano di accogliere quelle strutture anche minori e di nuovo torno a dire non ci sono minori di serie A e minori di serie B così come bisogna chiarire molto bene qual è il rapporto con i paesi terzi perché non vogliamo e lo voglio dire chiaramente è uno degli esiti di queste due giorni non vogliamo più accettare politiche che puntino sulla esternalizzazione e lo spostamento delle frontiere europee basta hanno fatto male all'Unione Europea e sono le uniche lo voglio dire a Giorgia Meloni sperando che non se ne rammarichi troppo che rivendica questo approccio europeo come una novità da quando è arrivata lei che sono 15 anni che questo è l'approccio dei governi europei drammaticamente non è cambiato niente anzi ci saremmo aspettati una spinta in più da questo governo per insistere con i suoi alleati e amici sulla solidarietà europea dicevo dobbiamo combattere quell'approccio che abbiamo visto tante volte prevalere nel discorso e sono molto contenta che tra le questioni che abbiamo affrontato in questi giorni anche senza no senza diciamo timore tra di noi c'è che abbiamo voluto dare un segnale chiaro quando in Parlamento abbiamo finalmente detto come ci eravamo impegnati a fare alle primarie mai più finanziamento alla guardia costiera libica perché viola i diritti fondamentali e su questo aggiungo la nostra contrarietà a questo approccio appunto di accordi con paesi terzi volti tutti diciamo al blocco delle persone pagando prezzi altissimi in termini di rispetto dei diritti umani anche in quei paesi è il caso di questo accordo scelerato con la Tunisia caso diverso invece l'abbiamo visto con la Libia naturalmente prima prima ancora con la Turchia ma il caso attenzione diverso si pone invece sulla questione dell'Albania cioè l'accordo fatto con l'Albania a cui anche in questi giorni ringrazio i nostri parlamentari perché hanno fatto una grande battaglia anche in commissione contro questo accordo è un accordo anche questo che mira naturalmente ad esternalizzare le frontiere ma è un accordo che in se stesso a mio avviso pone dei problemi di profili di contrasto con l'articolo 10 della Costituzione che assicura il diritto dello straniero a cui non si vedano riconosciuti i diritti fondamentali della Costituzione a chiedere l'asilo nel territorio della Repubblica allora non è questione di chi gestisce peraltro penso che Matteo ci sia andato anche sui problemi dei costi molto esosi della mancanza di garanzie adeguate di chi effettivamente li gestisce ma forse anche personale italiano ma non è Italia e quindi da questo punto di vista pone un problema molto serio continueremo a seguire naturalmente perché sapete che è in ballo anche pende anche un giudizio da parte della Corte Albanese ma credo che anche per la giustizia italiana ci sarà da guardare bene agli effetti di questo eventuale accordo sperando che non vada mai in porto intendiamoci sperando che lo blocchino prima noi abbiamo provato in Parlamento tra l'altro ricorderete che quando abbiamo iniziato a dire che essendo un accordo internazionale doveva passare dal Parlamento ci hanno attaccato duramente salvo poi fare marcia indietro perché hanno riletto la Costituzione hanno scoperto che effettivamente si doveva fare non si poteva fare altro dicevo sulla questione della riforma della cittadinanza prima ho ascoltato parole molto accurate e vi ringrazio di questo perché è vero ci sono delle ferite aperte che abbiamo vissuto in questi anni su questo bisogna essere molto netti siamo qui per riprendere quella battaglia ma per riprenderla una volta per tutte nel senso che con un impegno chiaro che senza alcun timore senza alcun timore sui dibattiti sulle retoriche che altri vogliono suscitare nel paese questa è una battaglia giusta perché è una battaglia di civiltà chi nasce o cresce in Italia è italiano o italiana e nessuno gli può togliere questo diritto io l'ho sempre chiamato gli ussoli ragioniamo se c'è bisogno di cambiare nomi ma è una cosa diversa rispetto a quell'ottica di compromesso che era stata quasi raggiunta come veniva ricordato per noi e per me lo dico da subito la formula più ampia e coraggiosa possibile è quella che il partito democratico deve sostenere perché non possiamo più accettare che ci siano diritti negati di bambine e bambini ragazze e ragazzi ormai donne e uomini a cui questo diritto è stato negato non si è mai fatta nella storia caramarua inclusione sociale negando diritti fondamentali alle persone e ha ragione chi dice che bisogna avere coraggio su questo perché per troppo tempo e guardate non è una questione che riguardi solo il pd io ho fatto cinque anni in europa è una questione che riguarda tutte le forze progressiste e socialdemocratiche europee su questo terreno qua non può esserci timidezza alle destre nazionaliste che scelgono un nemico al giorno ce ne sono molti altri ma in particolare le migranti i migranti le richiedenti asilo e i richiedenti asilo a queste destre che fanno questa retorica becera ecco non è che rispondi loro propongono una visione sbagliata per me aberrante ma a quella visione non puoi rispondere con il silenzio e non puoi rispondere ammiccando a quella visione devi rispondere con una visione altra altra e alta che sia di supporto delle tue idee dei tuoi valori che non possono essere che quelli dell'accoglienza naturalmente con delle politiche sensate lungimiranti che la destra non ha mai messo in campo ha fatto il contrario quindi non dobbiamo avere timore di questo non dobbiamo avere un timore di come ti schiaccia quello stereotipo in cui ti vogliono cacciare è una battaglia giusta ed è una battaglia che fa bene al paese avere una riforma della bossi fini avere un vero superamento di Dublino che smetta di bloccare centinaia di migliaia di persone in questo paese quando magari hanno una zia o un fratello in un altro paese europeo cambiare quei criteri renderli più equi e più giusti cambiare le norme di una cittadinanza che scusatemi se faccio una piccola nota personale ma sono state adottate nel 1992 io avevo sette anni oggi ne ho 38 direi a questo punto ecco non è possibile presentarsi così a una nuova generazione che giustamente già ha scelto di far parte di questa comunità è parte di questa comunità a volte neanche lo sceglie perché nasce direttamente qua e allora che senso ha continuare con questa negazione noi dobbiamo usare la formula più coraggiosa e dire con chiarezza a queste destre che c'è un'alternativa e c'è anche su questi temi e questo partito democratico non ha paura di affrontarli insieme a voi non è naturalmente una fine è un proseguio di un percorso che già avevamo avviato qualche mese fa ma voglio ringraziarvi per questa bella partecipazione fino in fondo a queste due giorni so che ci sono persone che sono qui dal primo minuto ringrazio Olivia Turco che so essere qui dal primo istante aver seguito ogni dibattito io ho potuto seguirne una parte perché ho avuto tante altre cose da fare insomma il messaggio è questo si apre una nuova fase e il partito democratico è a disposizione con umiltà per ricucire quelle fratture per essere la casa dove ragioniamo anche perché purtroppo purtroppo respiriamo una certa solitudine anche nel dibattito politico su questi temi noi ci siamo e ci saremo e ci siamo con tutto il coraggio anche quello che per una ragione o per l'altra fino a qui non è stato visto o è mancato oppure non si è percepito siamo qui per mettercelo insieme grazie grazie